Buonasera e ben trovati in questa terza edizione del TG6. In apertura subito la cronaca e parliamo dell'incendio avvenuto all'interno del traforo del Gran Sasso e che ha interessato un autobus. Qui vediamo alcune immagini che ritraggono proprio il mezzo che ha preso fuoco il veicolo. È risultato essere un autobus della ditta Autolinea Sam di Monte Granaro, diretto a Roma dalla provincia di Fermo con 47 persone a bordo, in buona parte ragazzi, in viaggio per partecipare in serata alla trasmissione televisiva Amici di Maria De Filippi. In attuazione del piano di emergenza è stata adottata la chiusura di entrambe le gallerie. L'incendio dell'autobus avvenuto al chilometro 123 è stato pressoché totale e ha sprigionato una densa coltre di fumo. Le pattuglie hanno provveduto a inibire il traffico e insieme alle autoambulanze hanno accompagnato all'ospedale dell'Aquila tutti i passeggeri che nel frattempo si erano rifugiati all'interno degli scambi tra le gallerie. La galleria in direzione Teramo è stata riaperta alle ore 15. Chiuso il tratto tra San Gabriele e Assergi in direzione di Roma è interessato direttamente dall'incendio. I percorsi alternativi da Teramo per Roma sono rappresentati dall'autostrada A14 in direzione sud con l'innesso sulla A25 in direzione di Roma e viceversa. Possibile per i veicoli leggeri anche il transito attraverso il valico del Capannelle. Ed ora cambiamo decisamente pagina, parliamo della tassa di soggiorno a Pescara argomento che continua a far discutere e sul quale non si riesce ancora a trovare l'intesa in seno al Consiglio Comunale di Pescara. Oggi l'attenzione si è spostata sugli emendamenti presentati dal Presidente del Consiglio Comunale Antonio Blasioli secondo le opposizioni si è trattato di un'azione illegittima ed ora il caso finisce davanti al Prefetto. Ancora lotta sul caso dell'introduzione della tassa di soggiorno che da giorni e altrettanti notti va avanti a suon di emendamenti e contrasti con la maggioranza. Ma ad unire oggi Centrodestra e Movimento 5 Stelle è il fatto accaduto nella notte tra il 14 e il 15 aprile. E al centro dell'accusa c'è il Presidente del Consiglio Comunale Antonio Blasioli. Se da una parte ritiene che i nostri emendamenti siano di tipo ostruzionistico e quindi non ammissibili ha tutte le possibilità date dal regolamento di dichiararli tali e quindi farli decadere. Se invece questo non è, allora vuol dire che questi emendamenti che sono stati accettati, su cui sono stati posti i pareri da parte dei dirigenti, vuol dire che sono ammissibili e quindi non può fare delle interpretazioni personali del regolamento e deve sottoporli a regolare votazione. Ora ci chiediamo se è vero che avete questa disponibilità di soldi in più, potreste usare direttamente questa per fare il bando, per deliberare poi un nuovo piano marketing, fare il tavolo condiviso e poi soltanto alla fine, se davvero ci sarà bisogno di avere altri soldi, si introdurrà la tassa di soggiorno. L'intenzione ora è quella di coinvolgere il Prefetto di Pescara per non creare un precedente che inficerebbe l'attività principale, quella della presentazione degli emendamenti. Vogliamo comunicare che noi andremo sicuramente al Prefetto perché il Presidente del Consiglio Comunale in questo momento non rappresenta tutto il Consiglio Comunale ma probabilmente svolge un ruolo esclusivamente e assolutamente di parte. Si è retto a difesa esclusivamente della delibera della maggioranza e non garantisce quelli che sono i diritti dell'opposizione che sono stanciti dal regolamento consigliare che lui ha inteso caratterizzare come un regolamento proprio perché lo ha utilizzato a sua immagine e somiglianza. Ed ora ci occupiamo della crisi al Comune di Teramo con il silenzio che si è autoimposto il primo cittadino Maurizio Brucchi, momenti per lui di riflessione in attesa di sciogliere le riserve e prendere alcune importanti decisioni. Vediamo. Sono giorni delicati con evidenti momenti di tensione quelli che sta vivendo il primo cittadino di Teramo dopo le dimissioni dell'assessore a lavori pubblici Giorgio Di Giovan Giacomo. Una scelta che ha lasciato il sindaco evidentemente sconcertato a cui ora compete un gesto forte poiché di sicuro le consultazioni già rivelate inutili pochi mesi fa non serviranno a nulla. Il tutti contro tutti nella maggioranza potrebbe costare il commissariamento della città. Dopo le poche esternazioni durante il Consiglio Comunale di giovedì il sindaco Brucchi ha avviato la pausa di riflessione annunciata in aula. Nel silenzio politico che si è autoimposto in questo fine settimana si aspetta la mossa da cui dipende il destino dell'amministrazione. La situazione è molto difficile, probabilmente sarà risolvibile solo con l'azzeramento della giunta, più volte chiesto ma sempre rinviato dal primo cittadino. Una situazione che l'opposizione teramana preannunciava da tempo visti i continui litigi interni. Fabio Berardini del Movimento 5 Stelle invita il sindaco a compiere l'unica scelta logica, le dimissioni. Della stessa idea è il Partito Democratico che aggiunge nessun rimpastino e nessuna stampella trasformeranno il fango in acqua da bere, un teatrino a beneficio unicamente del riposizionamento delle carriere personali. Nuda e cruda invece la posizione del consigliere arancione Gianluca Pomante che dopo aver chiesto direttamente durante la seduta di giovedì scorso a sindaco e giunta ma quand'è che ve ne andate, continua a sottolineare il disastro operato dall'amministrazione Brucchi. La scelta dunque è alle porte, ci sarà un confronto che non sarà sicuramente limitato a quel che resta della maggioranza. Ci si aspetta la convocazione anche ai consiglieri di Alcentro per Teramo che si sono defilati con la contestuale dimissione dell'assessore di Giovan Giacomo e a quelli di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, fuoriusciti dalla maggioranza già ad agosto scorso. I consiglieri Micheli e Sbraccia, a tal proposito, hanno detto che se cambiano le condizioni non rifiuteranno il dialogo ma tutto dipenderà dal sindaco. Intanto il deputato del nuovo centrodestra, Paolo Tancredi, scuote il consigliere regionale Paolo Gatti per una ricomposizione dei nervosismi finalizzata a evitare soluzioni traumatiche. Abbiamo commesso delle leggerezze a demandare solo al sindaco il ruolo di coordinamento politico dei consiglieri, dobbiamo pensare in modo collegiale e non lavarci nelle mani quando le cose vanno male. Tancredi non fa mistero di riferirsi chiaramente a Paolo Gatti, siamo tutti responsabili, dobbiamo ragionare in un'ottica collegiale e non fare attività politica con percorsi individuali e finalizzati solo a tutelare i propri orticelli e i rispettivi assessori. Un ristorante nel Pescarese rinomato per gli arrosticini preparava gli spiedini di carne di pecora in locali clandestini. Le strutture sono state scoperte dai carabinieri del NAS e chiuse. L'ispezione rientra nei controlli condotti dai militari in Abruzzo sulla filiera della carne e che hanno portato a sospendere altre due attività, una sempre nel Pescarese, l'altra nell'Aquilano per gravi carenze igienico-sanitarie e assenza di autorizzazioni. Circa 500 kg di carne non rintracciabile sottoposti a vincolo sanitario e sanzioni per 25 mila euro. Nel noto ristorante è stato appurato che gli arrosticini erano preparati in locali abusivi che non facevano parte dell'attività ristorativa. In collaborazione con il veterinario dell'Astria di Pescara, oltre allo stop all'attività del laboratorio, avviate a distruzione circa 50 kg di alimenti non rintracciabili. Vincolo sanitario poi per conserve alimentari sottoglio prodotte in assenza di procedure documentate nel manuale di autocontrollo aziendale. Un incendio ha distrutto nella notte un furgone Mercedes adibito a trasporto funebre di proprietà di una ditta di Santa Maria in Baro, in provincia di Chieti. Le fiamme si sono sviluppate intorno alla mezzanotte sotto l'abitazione del titolare che ha immediatamente chiamato i vigili del fuoco. Circa un'ora e mezzo per spegnere il rogo e per mettere poi in sicurezza altre due auto della società. Si sospetta l'origine dolosa dato che sulla cappotta del mezzo è stato trovato del liquido infiammabile, verosimilmente gasolio. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri di Ortona, coordinati dal capitano Roberto Ragucci. E ora parliamo della vertenza Brioni. Vince il sì dei lavoratori sul caso appunto dell'accordo della vertenza per gli esuberi. Si sono svolte ieri le votazioni nei tre stabilimenti abruzzesi per approvare il documento presentato dalle RSU. Il 90% dei lavoratori ha espresso il proprio consenso. Un passo avanti nella trattativa Brioni. Ieri si sono svolte le votazioni dei lavoratori di tutti gli stabilimenti abruzzesi per l'approvazione dell'accordo sulla vertenza preparato dalle RSU. Al termine della giornata il sì ha avuto la meglio con 517 voti da parte dello stabilimento di Penne. 203 per quello di Montebello e 116 in quello di Civitella. 93 in 8 tali. L'89,99% ha espresso il proprio consenso ed ora il procedimento si dividerà in due tappe. Fino al 30 aprile i 139 lavoratori full time in esubero avranno tempo di decidere sulla mobilità volontaria e cioè se andare via con un incentivo da parte dell'azienda che prevede una somma di 32 mila euro per i lavoratori con contratti da 40 ore, 30 mila euro per le 36 ore e 16 mila per le 20. Dal mese di maggio invece si lavorerà sulla rimodulazione dell'orario facendo la conta dei lavoratori rimasti sui 139 in mobilità volontaria. Accolta dalla società anche la richiesta del lunatantum ovvero di una somma forfettaria destinata ai lavoratori che a causa della rimodulazione dell'orario percepiranno uno stipendio inferiore a partire dal primo giugno. Previsti 2.500 euro per le 40 ore, 1000 per le 36 e 1250 per le 20 ore con una validità fino al 31 dicembre 2018 ovvero per tutta la durata del piano industriale. L'azienda ha comunicato inoltre che se le politiche commerciali introdotte non ripristineranno le condizioni dei lavoratori all'origine, cioè riportare gli orari di lavoro a quelli iniziali, l'unatantum sarà prorogata anche dopo. Nel piano industriale è stato annunciato un incremento di produttività stimato da 31 mila a 35 mila capi e concentrato sul formale, la maglieria e il basico, i punti cardine del brand Brioni che negli ultimi anni aveva invece subito l'introduzione del comparto casual che invece non aveva dato i risultati sperati. Secondo i sindacati si tratta di cifre poco ambiziose poiché così com'è l'organico potrebbe produrre dalle 45 mila alle 48 mila unità di capi, ma è probabile che si tratti di proiezioni caute per non disattendere accordi e aspettative in un momento di difficoltà e incertezza per i lavoratori. Il caso della richiesta di trasferimento dell'investigatore della squadra mobile di Pescara, Giancarlo Pavone, a seguito delle indagini sulla City, si sta intrecciando sempre di più. A colloquio con i sindacati il procuratore capo di Pescara, Federico De Siervo, ha ribadito la fiducia alla polizia pescarese e ha parlato di un malinteso con il questore Paolo Passamonti. Per i sindacati di polizia qualcosa non torna, nella vicenda ormai famosa dell'attacco sferrato dal governatore Luciano D'Alfonso alla squadra mobile di Pescara e all'investigatore Giancarlo Pavone. Ieri le sigle che difendono i lavoratori della polizia sono andate a colloquio dal procuratore capo di Pescara, Federico De Siervo, che ha ribadito loro l'estrema fiducia che la magistratura pescarese ripone nell'imparzialità delle indagini svolte dalla mobile del capoluogo. Apprezzamenti che lo stesso De Siervo avrebbe già espresso in una comunicazione inviata al questore di Pescara Paolo Passamonti lo scorso 7 aprile, dopo aver attentamente vagliato i fatti e sulla scorta dei pareri espressi da tutti i sostituti della procura. A questo punto, scrivono i sindacati in una nota, non si comprende l'accelerazione con la quale, già in data 21 marzo, all'esito dell'incontro con lo stesso procuratore del 17 di marzo, il questore abbia segnalato al Ministero dell'Interno la necessità di trasferire Giancorlo Pavone ad attività non investigative e poi, in data 22 marzo, avviato il relativo procedimento disciplinare, ragioni che risiederebbero nella grave incompatibilità tra un post pubblicato e il settore specifico investigativo della lotta ai reati contro la pubblica amministrazione, tanto che, secondo quanto appuntato dal questore, lo stesso procuratore ha auspicato l'assegnazione del Pavone ad un incarico che non comporti lo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria. Nel corso dell'incontro, riferiscono sempre i sindacati, Desiervo avrebbe spiegato l'accaduto come una incomprensione di chi ha espresso male un fatto e ha recepito male un concetto. Ma per i sindacati qualcosa non quadra e quindi chiedono un immediato chiarimento interno alla Polizia di Stato per capire la natura degli errori commessi nella gestione dell'intera vicenda e chi li abbia commessi. Una proposta di legge per la legittima difesa, sostenerla, è l'Italia dei Valori che promuove una raccolta di firme nei gazebo dislocati in varie piazze di comuni abruzzesi. L'Italia dei Valori lancia una proposta di legge ed iniziativa popolare per la legittima difesa, per tutelare il domicilio e consentire nel proprio spazio privato di difendere se stessi e propri cari, cancellando il risarcimento danni che può essere richiesto anche dal malvivente. Senza la legge si corre il rischio che ognuno cerchi di risolvere il problema da solo, dotandosi magari di armi e mezzi impropri. Deve essere lo Stato, deve essere la legge a essere ferma, drastica nei confronti di chi delingue, di chi aggredisce, di chi commette furti e spesso rimane impunito. Questo è lo spirito della norma, stiamo avendo tante tante attenzioni e firme in tutto il paese. Il segretario regionale dell'Italia dei Valori, Lelio De Santis, lancia l'iniziativa della raccolta firme Negazzebo posizionati in giro per l'Abruzzo. Le notizie sono all'ordine del giorno di aggressioni, di furti che terrorizzano il cittadino, che terrorizzano il negoziante mentre svolge la propria attività. Le sollicitazioni vengono soprattutto dalle aree, alcuni quartieri di Pescara, dalla città della costa, Tiramana, dalla Marsica, abbiamo fatto De Gazebo a Avezzano che stanno scudendo moltissimo successo, l'altro giorno a Roseto, cioè tutta la regione Abruzzo, ma dalle notizie che io ho è tutto il paese che chiede più sicurezza e per noi dell'Italia dei Valori la sicurezza è il problema principale, prioritario per il cittadino. Specializzazioni in alcuni settori quali la radiodiagnostica, medicina nucleare, urologia, fibrosi cistica, oculistica nel quadro delle sostenibilità della sanità abruzzese e la ricetta per il rilancio dell'ospedale di Atri elaborata nel corso di una riunione svoltasi questa mattina nella sede della regione a Pescara alla quale hanno partecipato il presidente Luciano D'Alfonso, il consigliere regionale Luciano Monticelli, il direttore generale della ASL di Teramo Roberto Fagnano, il direttore del Dipartimento regionale per la salute Angelo Muraglia. Il presidio sanitario di Atria, osservato D'Alfonso, deve diventare un luogo di produzione di servizi e non una fonte di lamentele. Oggi ho chiesto al direttore Fagnano di mettere nero su bianco un progetto con tempi precisi da contemplare nel decreto che disegnerà il piano regolatore della sanità regionale. Questa mattina all'Aquila è stato inaugurato il mercato contadino, una struttura coperta di 220 metri quadri che ospiterà le produzioni di circa 50 aziende agricole, zootecniche e dell'artigianato agroalimentare del territorio aquilano. Uno spazio di vendita a chilometro zero in cui trovare i prodotti della terra e della lavorazione gastronomica artigianale. Patrocinato da Slow Food nasce all'Aquila il mercato contadino con lo scopo di sensibilizzare la qualità del cibo prodotto nel rispetto dell'ambiente e dell'uomo. La gestione del mercato sarà realizzata da una cooperativa. Nel mercato si troveranno prodotti di qualità e di prossimità, come sottolinea la fiduciaria di Slow Food della condotta dell'Aquila, Elisabetta Mastracci. Il motto di Slow Food è che bisogna mangiare buono, pulito e giusto e nel giusto c'è il concetto che il lavoro va remunerato. Questi ragazzi che producono, i produttori, sono ragazzi che credono in un'agricoltura pulita. È una produzione come si faceva una volta e sicuramente non c'è lavoro nero all'interno di queste realtà. È una filiera cortissima, come ho detto è il produttore che vende direttamente. Quindi frutta, verdura, uova, confetture, farine, paste, dolci, c'è di tutto veramente, fagioli, lenticchie, ceci, veramente tantissima roba. Si svolgerà domani a Teramo Green Expo che vedrà Piazza Martiri ospitare per tutto il giorno prodotti del settore attraverso la promozione e l'incentivo all'uso di mezzi per gli spostamenti ecosostenibili. Inoltre la frazione di Villa Marini ospiterà a partire dalle ore 15 la quinta edizione dell'iniziativa Bici Day per far avvicinare i bambini all'utilizzo delle biciclette. Il 17 aprile a Teramo in Piazza Martiri della Libertà andrà in scena Green Day, energie in circolo. Di cosa si tratta? Si tratta di una giornata volta a promuovere l'ecosostenibilità in genere. Sarà un evento a cui parteciperanno diversi espositori, concessionari e auto, ma anche altre realtà che producono e promuovono altre tipologie di prodotti, sempre nel rispetto dell'ambiente. Si tratta di una giornata non scelta a caso, che è appunto il giorno del referendum, che noi invitiamo tutti gli elettori ad recarsi alle urne e di prendere parte al nostro evento, per dire sì ma quindi per dire no ovviamente. Qual è il programma di Bici Day, l'evento che coinvolgerà appunto i più piccoli? Alle 15 i bambini arriveranno a Villa Marini, riceveranno un tagliandino gratuito all'ingresso e potranno partecipare all'estrazione di una bici, di una mundan bike, anzi di due mundan bike, quindi saranno due estrazioni, due mundan bike. Poi riceveranno insieme, grazie alla Liciani Giochi, che per il quinto anno consecutivo ci ha regalato dei giochi, ci ha donato dei giochi, tutti i bimbi che verranno a Villa Marini avranno un gioco in omaggio. Ci saranno i maestri della MTB Teramo, che gli faranno fare un percorsino sempre di sensibilizzazione, quindi un percorsino piccolino. Poi ci sarà il Nutella Party, che è la parte più golosa di questo evento. La cosa più bella e novità per quest'anno è la collaborazione con la Croce Rossa di Teramo, con il trucca bimbi. Praticamente i bambini verranno truccati simpaticamente, e chi vorrà naturalmente verranno anche sensibilizzati, faccio un esempio, a quello che può essere l'aiuto di un bambino di 6-7 anni, magari se va a passeggio col nonno e non si sente bene il nonno, cosa deve fare il bambino? Apriamo ora la pagina dello sport con la Serie B e i risultati della giornata odierna, la trentasesima giornata, con in particolare il pareggio della Virtus Lanciano a Latina, Virtus raggiunta al novantesimo. Baricomo 3-0, Cagliari-Brescia 6-0, Crotone-Spezia giocata ieri 0-0, Latina-Virtus Lanciano 2-2, Novara-Livorno 2-1, Perugia-Vellino 2-0, Pescara-Cesena giocata ieri 1-0, Provercelli-Salernitana 1-1, Trapani-Ascoli 4-3, Virtus-Entella-Modena 1-0, Vicenza-Ternana 2-1. Classifica, in testa sempre il Crotone, 74 punti, di mezzo il distacco il Cagliari 71, poi Bari 60, Trapani 59, Pescara-Espezia 58, Novara e Virtus-Entella 57, Cesena 55, Perugia e Brescia 51 punti, Ternana e Avellino 44, Ascoli 42, Vicenza 41, Latina-Virtus Lanciano e Provercelli 40 punti, Salernitana 36, Modena 36, Livorno 33, Como 28 punti. Allora andiamo a vedere i riflessi filmati del pareggio del Francioni tra Latina e Virtus-Lanciano e a seguire le dichiarazioni del tecnico frentano. Primo, Maragliulo. Gara dalle mille emozioni al Domenico Francioni, dove il Lanciano arriva ad un passo dal colpaccio in 90 minuti incredibili e dal pathos senza fine. Con una difesa inedita, ma con un cuore grande e così, i rossoneri sono riusciti a rispondere colpo su colpo ai nerazzurri di casa di mister Gautieri, dimostrando di essere più che mai in corsa per la salvezza, al di là di quelle che saranno le eventuali prossime penalizzazioni. La Virtus c'è, ma con il Novara dell'altro ex Marco Baroni. Martedì prossimo al Guido Biondi bisognerà solo vincere. Al Francioni Lanciano in piena emergenza difensiva per le contemporanee assenze di Amenta, Aquilanti e Boldor, recuperato in extremis regione che gioca al centro con Di Filippo. All'appello manca anche Bacinovic che è squalificato. Nel Latina Boaci vince il ballottaggio con Corvia. Al sedicesimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, dopo una prima respinta di Uicani e Di Filippo ad alzare di testa di pochissimo sopra la traversa. Dopo un pallone perso a centrocampo e Boaci dopo un contropiede a mettere il pallone al lato della porta difesa da Cragno. I ragazzi di primo Maragliulo sembrano ispirati e al ventesimo è Ferrari in area ad alzare sopra la traversa. La gara è godibile e veloce con Boaci che ci riprova al ventiseiesimo chiamando Cragno al salvataggio. L'equilibrio è evidente fra le due formazioni che hanno delle fiammate a fasi alterne, così come accade al trentaseiesimo quando Dumitru con una conclusione a girare fa terminare la sfera di un soffio a lato. La fine del primo tempo regala poi ulteriori emozioni con il Latina che al quarantaquattresimo trova il vantaggio con lo stesso Dumitru che sul servizio di Mariga entra in area mettendo alle spalle di Cragno. Per il lanciano che non aveva demeritato e questa è una doccia gelata. Nella ripressa si ricomincia al quarto con un miracolo al quinto di Cragno su conclusione velenosa dei venti metri di Mariga. Gol mangiato, gol subito visto che al settimo in contropiede Vastola non sbaglia rimettendo la gara sui binari della parità. Grande esultanza dell'esperto centrocampista lancianese che va a festeggiare sotto il settore dei propri tifosi. La gara è di rara bellezza con azioni in rapida successione. Al nono ancora Cragno protagonista su angolo di Olivera con una deviazione e poi tre minuti dopo su Scaglia che aveva mirato all'angolino. Ma le sorprese sono sempre dietro l'angolo visto che al quattordicesimo arriva il vantaggio frentano ancora su contropiede finalizzato questa volta con grande freddezza di testa da Marilungo che fa esplodere la panchina rossonera. Maragliulo non si scompone mentre al quindicesimo è Calderoni con un tiro centrale a chiamare alla parata a terra Cragno. Al ventitresimo si infortuna Vastola che viene sostituito da Giandonato. Al trentunesimo arriva la risposta dei padroni di casa con un colpo di testa di poco alto di Della Fiore sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al trentacinquesimo c'è poi una traversa clamorosa di Schiattarella con l'azione che prosegue e che vede una caduta in area lancianese di Boaciu che chiede il rigore con Chiffi di Padova che lascia invece proseguire fra le proteste locali. Il finale di partita è rovente con il nuovo entrato Corbia che di testa al quarantaduesimo impegna a terra Cragno. Gli ultimi minuti vedono ancora emozioni e una ghiotta occasione per Amarì che conclude alto al quarantaquattresimo ma il veleno per la Virtus nella coda con il due a due realizzato da Scaglia a tempo scaduto. In un finale a dir poco concitato che vede al novantatresimo un'altra opportunità non sfruttata dal pontino Della Fiore imitato poi un minuto dopo da Giandonato che tira alto dai 18 metri per i rossoneri e un pareggio amaro ma anche di valore in uno scontro diretto che non bisognava perdere e alla vigilia della gara di martedì con il Novara dell'ex Baroni. Questa sì una gara da non sbagliare. La partita sicuramente è stata molto equilibrata. Probabilmente nel primo tempo in Latina è andato in vantaggio nell'ultimo minuto quando sinceramente penso che meritasse qualcosina di più Lanciano però nel secondo tempo ci siamo ripresi, siamo anche andati in vantaggio abbiamo anche avuto dei momenti di difficoltà perché in Latina ci ha messi sotto però credo che gli ultimi cinque minuti siano proprio veramente lo sguardo di questa partita e di questa squadra perché dopo aver preso il pareggio si è buttato avanti rischiando addirittura di perdere però in effetti abbiamo avuto due occasioni veramente clamorose e lì dovevamo sfruttarla però eravamo venuti qui a Latina con l'intento di giocarci la partita così è stato con l'intento di fare il risultato e così è stato e alla fine siamo veramente molto contenti. Le difficoltà che abbiamo avuto in settimana le sappiamo solamente noi e quindi nello spogliatoio non ho fatto altro che ringraziarli. Un pareggio importante in una giornata che ha visto delle sconfitte per le vostre dirette concorrenti dunque un pareggio che sicuramente è amaro da un certo punto di vista ma dall'altro permette comunque di muovere la classifica. Sì assolutamente, noi in ogni caso è chiaro che dobbiamo guardare solamente noi stessi e cercare in ogni partita di fare punti a prescindere dall'avversario. Ribadisco oggi siamo contenti perché abbiamo ottenuto un risultato contro un'ottima squadra e una squadra che come noi è invischiata nella lotta per la salvezza e quindi questo è stato veramente molto importante. E ora riviviamo le fasi salienti della importante vittoria del Pescara ieri con il Cesena col partita di Lapadula. A proposito è stata rinviata la presentazione del club biancazzurro proprio intitolato a Gianluca Lapadula, presentazione che ci doveva essere questa sera slittata di una settimana circa. Ma ora spazio al servizio. Un gol pazzesco che da solo vale il prezzo del biglietto ma soprattutto tre punti di platino in uno scontro diretto playoff che lancia il Pescara ancora più in alto in classifica con nuove certezze, nuove convinzioni alla vigilia della gara di La Spezia e delle ultime sei giornate di campionato. In riva all'Adriatico i tifosi, tornati numerosi allo stadio, hanno finalmente ripreso a sognare grazie ad un delfino che ha saputo stringere i denti e mostrare il suo lato migliore in una gara tutt'altro che semplice. In campo c'è il solito Pescara rimaneggiato. All'ultimo momento da forfè anche Gianluca Caprari con Oddo che ritrova almeno Zampano in difesa e Torreira a centrocampo. Sulla tre quarti è Mitriza a fare da spalla Pasquato. Nelle Cesena riflettori puntati sugli ex biancazzurri Cascione, Cone e Ragusa, autore all'andata del gol vittoria dei Romagnoli. Al secondo minuto si vedono subito i padroni di casa con un tiro dalla distanza di Capitan Memuschai che termina sopra la traversa. Al tredicesimo arriva la risposta ospite con una conclusione centrale di Antonino Ragusa. La gara è equilibrata con gli ospiti però più pericolosi prima al ventesimo con Fiorillo che smanaccia una palla vagante in area di rigore e poi con lo stesso portiere biancazzurro che respinge da campione su tiro ravvicinato di Ciano. Ma l'occasione più ghiotta capita al trentunesimo sui piedi di Gianluca Lapadula che in area scarica addosso a Gomis che riesce a salvare porta il risultato. L'equilibrio la fa da padrone con i Romagnoli che si rivedono poi al trentottesimo ancora con un tiro di Ciano che termina non lontano dal montante della porta adriatica. Il finale di primo tempo vede ancora tanto equilibrio con le due formazioni che rientrano negli spogliatoi con uno 0-0 tutto sommato giusto. Si ricomincia nella ripresa con gli stessi 22 di inizio gara e con ritmi abbastanza compassati e con le due squadre che dimostrano di temersi a vicenda. Al quindicesimo nel Cesena esce un'impalpabile Ragusa e dal suo posto entra Garritano. Prima dell'azione del diciassettesimo con Lapadula che di testa trova ancora una volta il miracolo di Gomis. Il Pescara si lascia preferire per una manovra più fluida. La squadra di Oddo preme ma il Cesena regge con il tecnico Biancazzuro che manda in campo Cappelluzzo qualche attimo prima della rete pazzesca in rovesciata di Gianluca Lapadula che su perfetto lancio di Pasquato al trentatresimo fa esplodere i 10.000 dell'Adriatico andando poi ad esultare sotto la curva nord. Per l'ex Terramano seguito in tribuna dai dirigenti dell'Eichster di Ranieri i gol all'attivo diventano 22. Il finale di gara vede ancora al trentacinquesimo un tirallato di Verre e al trentottesimo una punizione brivido di Ciano che scheggia il palo con la sfera che termina di poco sul fondo. Ciano ci riprova al quarantesimo svirgolando però clamorosamente in area bianca azzurra prima dell'ovazione dei tifosi di casa nella settimana che ha dato in via ai festeggiamenti per gli 80 anni del Delfino. Lo Spezia è avvisato, il Pescara è tornato. Il TG6 termina qui e vi dà appuntamento a lunedì con la prima edizione delle ore 14. Vi ricordo anche domani i nostri appuntamenti con lo sport a partire dalle 14.55 circa con diretta stadio, attenzione sulle due gare di Lega Pro di Terramo e l'Aquila e sul campionato di Serie D e poi alle 19.30 l'Abruzzo del Pallone condotto da Jacopo Forcella. È tutto, grazie per l'attenzione, buonanotte e buona domenica.